Stai andando per il lavoro senza neanche ben preparato la figlia? Ho tre figli da guardare, non ce la faccio io. Guardati! Non lo stai neanche contare. Siamo in due. È uguale, due o tre, altra roba. Cioè, muoniamo di fame. Muoniamo di fame. Questo lunedì, martedì e mercoledì. Hai questo? Come è lunedì? Lunedì, martedì era? No, lunedì, martedì e mercoledì. No, ti prego, stai scherzando. Vai, ti prego. Lunedì e martedì mi hai detto. Torno giovedì. E quindi per il giovedì non mangiamo. Io chiederò questa cosa in Parlamento. Chiederò questa cosa in Parlamento che gli uomini non possano essere abbandonati da le proprie mogli fino a che non li viena preparata la cena. Il pranto, la cena, il scadolato, il messo nel freezer, con scritto lunedì, martedì, con i vicini giorni della settimana. Questo deve essere valente per tutti gli uomini. Sono via tre giorni! Va bene, sono tre giorni, sono 24, 48, quante cazzo di ore sono tre giorni? 20, 40, 60, 30... Sto a parte di scherzo. Stai a casa, ti prego le tre giorni. Ah, ma sono via tre giorni! Oh, che finito, ma per tre giorni non mangio, sono buoni, eh? Fui una cosa, non so più, eh? Scrivi video su sopravvivenza. Voi, che vai su YouTube e scrivi video su sopravvivenza. Ma perché? E sopravvivono gli altri, sopravviviamo te. Prova a scrivere.